che probabilmente è il pezzo di... Non guardate questo video se non siete ancora arrivati alla quinta stagione di Steven Universe Con la quinta stagione si sta dando un piccolo spazio in più ai personaggi umani di Steven Universe per riuscire a concludere tutte quante le loro storie Così ho deciso di dedicare un minimo di spazio a Kevin Kevin, Kevin, Kevin Kevin appare solamente in tre episodi eppure è indimenticabile fin dal primo Alla sua prima apparizione vediamo Kevin disgustato dalla festa che non ci vuole stare Grande domanda, perché non ci vuole stare? Perché non è lui il protagonista, perché non è al centro dell'attenzione e lui si diverte soltanto quando è al centro dell'attenzione Così quando arriva Stivonni e tutti quanti si voltano per guardare Stivonni che balla in modo al tempo stesso strano ma bellissimo E è bellissima bar bellissimo Stivonni Ecco che Kevin pensa subito di parlarle, di conoscerla Perché se Kevin è vicino a Stivonni le persone associeranno Kevin a Stivonni Infatti stavolta si parla proprio di questo Kevin è una delle persone peggiori che si possono conoscere Da un lato ci sono persone come Lars o Ronaldo che hanno grossi drammi nei confronti di se stessi e cose di questo tipo Ma proprio la loro profondità li rende antipatici perché non sono in grado di gestirla e quindi si chiude un ariccio Mentre Kevin non si chiude ariccio Kevin non è superficiale perché vuole nascondere ciò che ha dentro Kevin non si preoccupa di ciò che ha dentro Non si preoccupa di ciò che prova E non è in grado di capirlo Kevin è estremamente presuntuoso Si avvicina a Stivonni e la vede solo come un'opportunità per essere al centro della scena Non si preoccupa di chi sia Tant'è vero che non la riconosce quando vede Steven e Connie separati Non ha nemmeno un attimo di riflessione dove dice Oh ma questi quei io li ho già visti No 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 Quando li rivede Non si ricorda di loro Per nulla È a questo punto che Steven e Connie si sentono particolarmente offesi Tutti e due Perché Se andiamo a vedere l'episodio nello specifico Kevin non fa nulla di particolarmente cattivo e crudele Allora cerchiamo di vedere il punto di vista di Stivonni Stivonni arriva a questa festa Non è una cosa che conosce Non c'è mai stata una festa dal genere Nemmeno sa se si debba ballare o meno Però si lascia andare Quando si lascia andare si sente giudicata Perché tutti quanti la guardano In realtà la guardano per ammirazione Ma lei non lo sa E quindi se ne preoccupa Questa preoccupazione Il fatto che non sappiano di che cosa si stiamo preoccupando Il fatto che non siano al loro posto Il fatto che vorrebbero essere insieme Ma in realtà non lo sono affatto Fa in modo che Stivon e Connie si preoccupino Creando quindi questa illusione intorno a Stivonni Che non riesce più a percepire la realtà Perché si è fatta prendere dalle emozioni Dalla preoccupazione Dalla paura E qui si avvicina Kevin Nel momento stesso in cui avete paura di qualcosa Siete terrorizzati Non vi sentite al vostro posto Se la prima persona che si avvicina a voi Vi dice Oh guarda io sono perfetto Visto che tu sei perfetto Mettiamoci assieme in mezzo a tutte queste immondizie Qualcosa non quadra Ed è esattamente così Il motivo per cui Stivonni odia così tanto Kevin È che Kevin Non ha cercato neanche lontanamente Di capire Stivonni E lui stesso Era la causa principale Del fatto che Steven e Connie Fossero così agitati Così preoccupati Si sentissero soli Kevin non si preoccupa di quello che prova Stivonni Non se ne preoccupa neanche lontanamente E lo stesso fa Quando rivede Steven e Connie E snobba Greg Ed è lo stesso che fa Quando Barando Continua a vincere gare E si considera migliore di tutti gli altri Lui vuole essere al centro dell'attenzione A prescindere da quale sia il motivo Ma È rimasto ossessionato da Stivonni Stivonni è riuscito a caterizzare l'attenzione Senza fare nulla di particolare Senza Essere necessariamente Che ne so Nuda Senza attirare l'attenzione in modo esponenziale Stivonni attira l'attenzione Perché è se stessa E Kevin non riesce a concepirlo Non riesce a capire perché Una persona comparsa da nulla Che nessuno conosce È in grado di attirare l'attenzione più di lui E così resta ossessionato Sebbene accusi di essere ossessionati Steven e Connie È lui A restare ossessionato E allo stesso modo restano ossessionati Steven e Connie Loro però restano ossessionati perché Kevin è la causa di tutti i loro mali E sono sicuri che siano in grado Di dimostrare a Kevin che ha torto E che può maturare Dimostrare che loro hanno ragione Ed è questo l'errore che fa la maggior parte della gente Kevin non è una persona molto comune Ma Steven e Connie Sì A chi non è mai capitato Di volerti mostrare a qualcuno Che ha torto Che ha sbagliato Che ha fatto del male Che ti ha ferito Volergli far pesare questa cosa E vindicarti in qualche modo Per fare in modo Non tanto che soffra quanto te Ma che capisca Che cosa ha fatto Capisca l'errore che ha fatto Capisca quanto ti ha fatto soffrire Capisca che così non si può fare Bene Questo in realtà è un errore Quando Kevin rivede Steven e Connie Dice Avete assaggiato un po' di Kevin? Adesso volete tutto il resto? No, è l'esatto opposto È quello che Kevin prova Kevin provando questa cosa È convinto che lo facciano anche gli altri E questo è un altro errore Che fanno moltissime persone Essere convinti che gli altri Abbiano lo stesso modo di ragionare che hai tu Se tu al posto mio Diresti una certa frase In una certa situazione Non è detto che anche per me Quella frase abbia lo stesso significato E la userei nella stessa situazione Il fatto che io sia ossessionato da te Non significa che io voglia conoscerti Capisci? E questo è quello che succede a Kevin Lui sa che sono ossessionati Steven e Connie E allora pensa automaticamente Che siano come lui Al tempo stesso Però Kevin è un genio Perché sebbene faccia Un sacco di errori Inerrenti a se stesso Sugli altri ci azzecca sempre Non tanto nel capirli Quanto nel capire come fare Lo vediamo anche nella festa di Kevin Dove spiega effettivamente a Steven Che cosa deve fare Per fare in modo che sia Connie A venire a parlare da lui Non è esattamente un manipolare Perché Kevin non sta manipolando Connie O altro del genere Il manipolare è molto più complesso Ed è molto più crudele e sbagliato Kevin è semplicemente una persona Che sa come farsi desiderare Sa come attirare l'attenzione su di sé E ha diventato un esperto solo in questo Non è in grado di manipolarti Costringendoti ad avere un'opinione Che non hai O altro del genere Anziché fare in modo che Steven strisci da Connie Kevin fa in modo che Steven finga di star bene Finga di non interessarsi a Connie Facendo in modo che sia Connie Quella che inizia ad addocchiarlo Sempre più spesso Finché a un certo punto Non sente il bisogno di parlargli Kevin è bravissimo in tutto questo Ed è così infatti che infastidisce Stivonni Capisce che il modo migliore Per fare in modo che Stivonni Sia ossessionata da lui E che quindi lui sia il centro dell'attenzione Anche nei confronti di Stivonni È sfotterla Sfotterla in continuazione Irritarla Punzecchiarla Se tu continui a punzecchiare una persona E a darle fastidio Funziona Ed è quello che fa Kevin con Stivonni Kevin sa che finché Stivonni Sarà ossessionata da lui Avrà la sua attenzione Al massimo della potenza Infatti l'unica cosa che Kevin odia davvero È essere ignorato Infatti l'unica due occasioni In cui lo vediamo dar di matto Sono tutte e due le occasioni In cui Steven e Connie Lo lasciano da solo Davanti agli altri Per Kevin Stivonni È solo uno spettacolo Non una persona Una cosa da esibire E che è utile solamente Finché va esibita Però appunto Non confondetevi Kevin non lo fa Perché in fondo È buono In fondo Non ha nulla di male Ma non accetta se stesso No 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 Kevin crede Ed è convinto Di aver perfettamente capito Se stesso Forse nel profondo Non lo fa davvero Ma non gli interessa Per questo è superficiale Perché non gli interessa Ciò che ha dentro Non ha dei dubbi Non ha delle fragilità Non perché le nasconda Ma perché È superficiale Se avete delle fragilità Probabilmente È perché Ci avete riflettuto Perché ci sono questioni Che magari Non volete affrontare Ma che vi ritrovate comunque Ad affrontare Contro la vostra stessa volontà Insomma C'è una certa differenza Fra essere fragili E essere come Kevin Kevin è Semplicemente Superficiale Tutto è E guarda caso Quando Kevin vuole fare in modo Che Steven attiri L'attenzione di Connie Lo trasforma in lui E Steven stesso A un certo punto Se ne accorge E non vuole diventare Come Kevin Gli amici di Kevin Sono tutte quante persone Che Sono lì solo Per farsi vedere O per essere Alla festa di Kevin Non perché Tengano a Kevin Allo stesso modo Kevin vuole quelle persone Alla sua festa Non perché gliene freghi Qualcosa di loro Ma perché Ha bisogno di avere Quelle persone Alla sua festa Studiate perfettamente Le persone che si comportano In questo modo Esattamente come Kevin Non è che Che siano coscienti Di star sbagliando O di far cose di questo tipo Ma al tempo stesso Non ha senso Cercare di convincerli Che stiano sbagliando Cosa che cercano di fare Steven e Connie Perché in realtà Impazzite voi Impazzite voi Un conto è Se cercate di fare Una cosa del genere Con un vostro amico Ma con una persona Che non conoscete È meglio non farlo Perché Sarà molta più La fatica che fate voi Del risultato che otterrete Se non conoscete una persona Non c'è bisogno Di imbistellirsi Di imbuffalirsi Se una persona commenta Su internet Insultandovi O dicendo una cazzata Non potete Costringerla A cambiare idea Non cambiare idea Perché arrivate voi Potete fare il discorso Migliore del mondo A quella persona La cosa più sensata E matura Che abbiate in mente Ma Non vi ascolterà mai Non vi ascolterà mai Non c'è speranza Tutto qui Non c'è nulla da fare Perché quelle persone Non cambieranno Certo idea A causa vostra Può essere che Siano le persone Migliori del mondo E che con la persona giusta Cambierebbero idea Ma non pensateci voi Non fatelo voi E accanto a una persona Come Kevin Che è sicura di sé Sembra non aver dubbi Chiunque finisce Per sentirsi imperfetto E Kevin Finisce per essere Un esempio Da seguire E' per quello Che tante persone Comunque Nonostante tutto questo Gli danno retta Perché Kevin Sembra la persona giusta Da seguire Perché Kevin è forte Kevin non ha debolezze E tutti vorrebbero essere Per certi punti di vista Come Kevin Ma non ci riescono Perché? Perché Kevin Non ha debolezze Perché l'assenza Di debolezze Che Kevin Cerca di trasmettere E' falsa E' recitata E Kevin Non sa di star recitando Kevin fa tutto questo Senza rendersene conto Fa tutto questo Perché probabilmente E' stato abituato Crescendo A comportarsi in questo modo E Oltre al fatto Che non ci sia speranza Che cambi Non c'è Motivo Per cui potrebbe cambiare Vediamo Kevin Venire umiliato due volte Infatti Da Stivonni Tutte e due le volte Lui resta solo Soprattutto la seconda Dove cade in acqua E vediamo in quell'occasione Che Kevin Non ha un po' di autoreonia Non è in grado di ridere Perché è caduto in acqua No Lui non ha autoironia Perché nessuno Nessuno si può permettere Di prendere in giro Kevin Non perché Kevin Non voglia far sapere Che è imperfetto Ma perché Kevin Non sa di essere imperfetto Questo è il problema Per cui si può Mi pot最 colour dijo Per chiaukee Dere magra Ma perché Mi poter Io non Jump несно Grazie a tutti Perché hisidelan Mi poter Non si può merce La per chiiantes Ma che glasses Ma oui Mi poter